Unità 8.16 Un bellissimo esercizio Anche Italia sbocca Torre d'Italia Torre d'Italia, per esempio non c'è carattere sbocca qui ci vediamo, qui ci vediamo Scrivetevi che c'è La Torre di Pisa Sì, io ho apprezzato che Torre d'Italia La Torre degli Asinelli La Torre degli Asinelli Il Torrazzo Il Torrazzo La Torre Velasca La Torre Velasca Bene, a te questo è un po' Sì, sono un po' C'è un po' C'è un po' Bocci zwischen Due d'anessi C'è un po' c'è, è questo C'è un po' C'è tipo, è il nacko C'è un po' Potere C'è chi è Bocci Esa una porta Esa una porta Quella Cosa Cosa Bokštas ir capininas Pistos bokštas ir katedra matiti mano vadoveilio virsceglie Mano pirmo vadoveilio virsceglie Anche per me era così Va Matiki Šitas didingas komplexas Irra Buona istana Šita data Chepela Marci propale Sviretas 1272 Che su sti Šta Šta 13 Circa Circa Svitevao Svitevteva l Kalikov Svitevao Svitevao Pogliadoo Bokštas Šta Mije Svitevao Vivao Vivao o per miei darbi, io buvo davvero mangi. Ma cosa ne dico? Quando io ho sentito questa altra scelta, io, quando c'era sempre per giurio, in gruntas, ne toks... ...tvirtas, io per te ho sviluppato, io si racconta, ma scrive sviluppato, e si sbocca. La torre pendente! La torre pendente! Pendente! Spendere! Sivoti! Ilga laika nebuvo galima iš visų lipti, da to, kad bijo, japonai, lenkdamiesi per vieną šoną, nugriausia visą bokštą. Čiaram te. Ir tada, kad pateisytų tą vertikalę, negi buvo valtojamos dvai didžiulės petnešos, kad prilaikytų išskrittos puses. Ne ziudai? No. Bretele! Dove c fonction varym da tad tonen ymphie si pui expose nipok maths T connecting ko собственно dove sta dove si trova la città dove si trova l'anno di costruzione l'anno di costruzione l'anno di costruzione e l'altezza l'altezza è naturalmente espressa quindi passacchissime la torre di Pisa si trova la torre di Pisa si trova a Pisa è stata costruita nel 1272 io ho la sua altezza è 56 metri la sua altezza è 56 metri la sua altezza è alta 56 metri è alta 56 metri bene metri che vogliamo pagare la tua boccia poi aprezziamo il suo e poi pagare bene l'altra boccia sarà la torre degli asinelli la torre degli asinelli la torre della torre degli asinelli sono due di Bologna che chiamiamo le due torre le due torre quindi vedete vedete qualche altra boccia Quindi, questi bambini non sono una funzione religiosa, non sono una funzione di bambini. Tutti a sapere che questi bambini, guardate, 12 anni, 12 anni, in questo stato, nel 2007, nel 97 metri, nel paese non c'è il paese. non è morta. Che non ha mai visto quello negli esclavano una piramide di Egipto Che che non ha visto i piramidi? Le ero in ansi. E il andiamo a lo sovrappich Ma che però non lo sovrappi che sono colorata, perchè la colorata è che si creò una storia una macchina Una macchina Vedi? Vedi? Sottile! 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 Bene, come vediamo il settore degli azinelli? Azinelli si chiudono si chiudono, si chiudono si chiudono quando vediamo la tua storia, si chiudono si chiudono chi? Come 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 Pagliati, c'è iš didžiosi sveili, azinelli Pavardė Jūs turi žinoti, kad seniai laikais, kai nebuvo teliko nebuvo realybės show ehhm Čia dar apie vidurimi, kai dar nėra tos tos plėtotes prakybos čia dar tokie news laikai Anų metų anų metų šeimos konkurodavo, kaip galėjo pardžių statydamos bokštus Kas turėjo ilgiausią bokštą arba didžiausią Nu Nėra nėra poskričia Kas turėjo didžiausią bokštą tai jis ir buvo ta šeima ir buvo Kiečiausias Kiečiausia Kas turėjo kečiausia Kiečiausia Kas turėjo aukčiausią bokštą tai buvo kečiausia šeima Bologna iš vidurėse buvo aš tėjų tėjų mėžių Dėjų rūdėjų tėjų 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 bologna tėjų 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 L'amore è successo l'amore come le stati di pizzo di bokšto. Prendò svirti, sviruoti. È stato stato statato fino a questo bokšto. Ma questo è stato fatto la pavojinga, quando sprendi? Nukisti. 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 O il vostro funcione è stato questo? C'è il proprio bokšto. C'è il bokšto. No, ora non c'è. Dio dio. Dio dio. Dio metri. Teco nu kirsti. Teco nu kirsti. Ero che era così svirojanti. Ero che era svirojanti. Ero così augusti. Pag. Be, come vedo, televizor antena. Ero così augusti, che gli uomini si prevede. Se non si prevede, se non si prevede, se non si prevede. Ero così. Ero così. Ero così. Ero così. Ti batti. Ero così. Ero così. Per tutto. Il rispettivo. Il rispettivo, che gli uomini si prevede. Ma. Non, il rispettivo. Ero così. Ero così. Ero così. Ero così. Ero così. Dante ha fatto la sua giovani. Ero così. Ero così. Ero così. Bene. La torre di Rasinelli. Randasi. 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 Si trova. A Bologna. Buova pastatita. E' stata costruita nel 1119. Borgen. Ero così. Ero così. Ero così. Ero così. La torre di Pisa è più famosa. La torre di Pisa è più famosa della torre di Pisa. Bene, la torre di Pisa è più alta della torre di Pisa. La torre di Pisa è più elegante. La torre di Pisa è più pendente. La torre di Pisa è più grande. 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 Almeno così sembra. Non c'è un'altra cosa, ma non c'è un pochino. Ma non c'è un pochino. Bene, prima un pochino. Il pochino è la Torre Velasca. La Torre Velasca. E qui ti chiede? Da dove viene questo nome? Da dove viene questo nome? Ci sono i pochino, che è chiamato a generale i pochino. Ci sono anche i pochino, ci sono i pochino, ci sono i pochino, ci sono i pochino, ci sono i pochino. E qui ci chiede? Ci chiede? Ci chiede? E qui ci chiede? Piazza? Velasco. Velasco. Velasco era un pochino, che gli Spani occupavano l'Italia e l'Italia, e venivano il governo Milano, quindi era il pochino, Velasco. E qui ci chiede? La Torre Velasca. è stata costruita nel 1951. 58, ed è alta, 106 metri. 6 metri, 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 6 metri. 7 metri è il primo, evidenti che il primo è piano… un bellissimo. E poi la Torre è la guerra in una guerra, Non solo in un'altra guerra in un'altra guerra, cioè la guerra giusta è la guerra. E poi la guerra, la guerra giusta è la guerra giusta. Un'altra è la guerra. Non, 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 ma è la guerra giusta. Il Duomo di Milano. 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 Il Duomo di Milano.